A dettarci l'urgenza è il nostro senso di responsabilità, il Paese non ha più tempo di attendere. La decisione arriva dopo un'ampia discussione, lo ricordiamo, il Jobs Act estende le tutele ai lavoratori che non ce l'hanno, prende in carico i lavoratori che perdono il posto di lavoro anche offrendo loro della formazione e riduce le forme contrattuali riducendo la precarietà.